Gli scarponi sono molto interessanti E' vero, è vero Gli scarponi? Non sono d'accordo però Oh ma quando esce? Marco esce a marzo? Manca troppo, manca Sei mesi mancano Io nel frattempo cosa faccio? Non mi fate quegli odi Allora amici Questa mattina facciamo una cosa Sono quasi sette mesi Non sei mesi dai Tanto bisogna aspettare Sono sei, sono sette Mi cambia poco Questa mattina vogliamo fare Una cosa importante Moro E' vero Dici un po' Liezor Ah Me l'ha detto Espo il primo Quello che potrò fai dire da lui Ah bene Io non so niente Beh sapevo Semplicemente dobbiamo Abbiere dei portali del Nether Vicino a quello nuovo Ma che portino Dobbiamo fare Sì dobbiamo viaggiare Così ci portano in altri punti Della mappa Dobbiamo scoprire Nuovi posti oggi Però io ho bestia C'ho una sete Amici fatemi andare A prendere la tua famiglia Intanto io vedo di Connettermi a mettere Fullscreen in questo gioco Altrimenti voi Non lo vedete bene Grazie a voi Grazie a voi Che ci avete seguito Grazie a voi Tanti Tanti superi mille Siamo arrivati Vero? Sì Durante monopoli Poi Ancora Agosto E infatti agosto ancora Bisogna ricordare Hai sbagliato Infatti mi sbagliamo Anche a farla La loro prova Ma è male perché Non c'è nessuno Ma piove anche su Minecraft Già piove qua Questa piovendo Infatti io di sotto Ah tra l'altro Come avete visto C'è rimasta la donna Colburca A casa di Moro Come di Moro Si è trasferita Eh vedi Si è lì a casa di Moro Ammacolata Non so Si è trasferita Allora amici Facciamo così Ancora Tac Marco Guarda che Non lascia stare Che tu sei stato Adesso sei conosciuto Come l'uovo di merda Che non mangia la pasta Confermo Ormai è troppo tardi Che è successo? Marco Che c'è? E' pronto Per andare nel nether? Sono pronto Amici Ma voi come vedete La freccina invece da me Per capire Se è un problema di esprito Anche da me La vedete storta? Come io cerco Guardate Apri l'inventario Marco E l'ho già aperto E lì dove è Lì dove è la freccina Da me è giusta Dicono Giusta? No Dicono no No giusta Da te è perfetta Da te è perfetta Non è proprio problemato Non lo so Ma chi è che mette la sabbia? Non c'è fretta Non c'è inganno Serve l'ossidiana però Ne abbiamo Ne avevamo 30 Io in realtà ne avevo Pese tipo 45 Che abbiamo fatto il portale Tra l'altro Ah amici No aspettate Fatemi fare Fatelo fare a me Che ho un sacco di esperienza Mi faccio un piccone di diamante Che abbiamo il diamante Possiamo farmarla Creando portali Però Fatemi andare E' vero Perché non mi hanno portati Vabbè ma non Perché poi lo distrugge E ti crei Adesso faccio una roba Ti crei automatico Il portale di uscita Ah si Vado a farmi un piccone E lo incanto Tanto abbiamo Comunque il piccone di diamante Sì sì vado a farlo Sì sì vado a farlo E se l'ho io Il portale di diamante Marco È uscito Pantheon È uscito Pantheon? Cacchio Paccioare Ma è fortissimo Come sempre Forse l'avevamo Facciamo l'ultimente Che salta O che blocca qualche attacco Cacchio è che prendiamo Sto ferro Lo mettiamo Nell'apposito Ma Pio è tantissimo Vabbè di entrare Che qua Mi da fare sti Dopo Dimmi nord sud Est ovest Signore direzione Ovest Eh no la direzione Tranquillo hanno capito Ma io ma perché Mi sono capito Gli altri mi hanno detto Ma perché Via del cazzo La direzione può essere Solo Lungo la Y Ah va bene La Y Dovevo andare giù Quindi in su Scusa La Z allora L'ultima Io metto un letto qua Vabbè c'è da una parte o l'altra Di sinistro o destro Sai dove è più comodo Io che cazzo ne so Ecco è scoperto In trame le parti C'è l'avevo in trame le parti Piripiri Piripiri C'è l'avevo in trame le parti Ok è di qua Direzione No noi dobbiamo andare in l'altra Esatto E questa l'ha Ok Ma non è vero Non ho sbagliato Per una volta Vabbè Hanno tolto le classificate Tutti in effetti Magari stanno sistemando Tra problemi Eh sì Cosa dicevo Aspetta fammi mettere più Barrile Mi sono andato sopra i cose di Magna A sentirla Aspetta devo andare a riparare il piccone Che bello Come si fa a cambiare la cosa che mi può uscire Non si può vero Immagino No cambiare non può Ti fai quei libri Se specifica Senza stare a rifarlo 20 volte Ok Vai proviamo così vediamo che viene fuori Efficienza 2 basta Ma tra un letto così così vado a dormire nel nether Con l'efficienza 2? Ma che palle Eh perché c'è Ma che merda ma Eh sì Vabbè Vabbè L'efficienza 2 è comunque nel nether No non è malato Ma perché c'è una barca dentro la hall? Ma almeno in distrutta E' un tipo di cose la barca Si l'ho messa io Efficiente Vabbè è un arredo dai Industria Ma io c'ho un livello Marco mi ripari il piccone? Si Dove sei? Eh sono sull'archivio documenti Eh c'è qua l'inchiuso Il design è da te? Si Serve il... Anche io ho bisogno un sacco di materiali Due secondi Eh ho usato due piccone Facciamo un po' di barriere per evitare di cadere nella hall No E quelli sono importanti Molto gentile Marco Ho ancora 18 di esperienza Prova a farne un altro Tu hai un'efficienza 4? Eh Ma ti hai disposto a te? Aspetta tieni Quanto hai disposto a te? Eh? Ho 18 ancora Tanto questo No fai Non spegnare le robe con 18 Ma direi 30 Ma tanto comunque non arrivo a 18 C'è non arrivo oltre un tot Andiamo alla burra Allora Di qua gli dai direi no? Aspetta aspetta Finisco a chiudere qua Ok Diciamo direttamente il portale diciamo Quindi Qua Da lì? Ma sono stupido Eh Disa Tocca a farlo Carca miseria Mi sono sbrodolato Con il mirtillo Con il mirtillo Ma devi incantare di qua Eh C'ho salto in padella Adesso Ah ma quindi fare 30 livelli Effettivamente mi da qualcosa di meglio Si Ti ha incantamenti la scelta 10 20 e 30 Farei al 18 non ha senso Poi non te ne consumi a 30 No no Si no pensavo fosse funzionasse in un modo diverso Allora facciamo così dai Eh aspetta provo a sistemare la webcam Agirnando Fatemi allora Iniziate io c'ho paura a cadere qua sotto Eh fai il mirtillo Edda ti vuoi dare un po' Aspetta diamo un po' di mirtillo se vuoi Ah ma è più bello che così Finito qua che Intanto poi farò la barriera poi A esterno Venti staccia con il mirtillo Oh Ma poi sei in due secondi Eh lì qua c'è un fiume di lava Cosa facciamo? Facciamo sotto Ciao ragate Ciao Fiume di lava Ma sei bellissimo Vabbè ma intanto non dobbiamo andare così avanti Eh non lo so ma non dobbiamo andare avanti Credo così avanti Eh bisogna andare un po' avanti Fino all'unziume di lava Vabbè caso non passerà Ma voi siete già nel nether? Eh ma bisogna Cioè facciamolo tipo Facciamolo a 300 blocchi più in là Però Lisa non fare così Io voglio fare un po' di nuovo dritto Non Eh no perché poi voglio fare le barriere di lato Mettico magari uno sbuffo un attimo E cadere la la Eh ma le barriere passi di 1 Non c'è una barriere di 20 Mi fanno tre con quelli di fatto Vabbè Ma si tanto di materiale ne abbiamo Cazzo ce ne fai No ma è per quello che ci si mette la merda poi Ma no è bello Fargo non gli metti il nome con la targa è vero devo farlo Poi lo farò Ma abbiamo... abbiamo targhetti Si dovremmo avere qualcuno Ho sbagliato Ho sentito un gas Ah ce l'abbiamo uno sola eh Perchè io di me Zitti per favore eh Ah è vero è tutto Cazzo è vero Eh è nethera le cazze è vero Ecco perché bisogna fare Ah amici poi dobbiamo provare la cosa della cobblers Questa non la distruggi da Ah esatto stavo per la stessa cosa E lo faccio bene a farli così Eh Eh Vabbè in caso Vabbè andiamo a tir dal dove ho fatto trovato io Vabbè ma se ci passiamo su prof Io per sicurezza mi metto lo scudo in mano comunque Sia mai che succeda un casino Marco io sono intrepido invece Mi ricordavo fossi un paladino Eh Di merda Perchè lo stiamo facendo di netherrack? Infatti adesso cambiamo Eh? Adesso lo facciamo giusto Dopo lo cambiamo Allora non serve una fama Eh si passi sopra Non distruggi Passi sopra quella 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 Sì Facciamo il piano più alto Eh qui c'è la cosa di lava Ma scusiamo Potevamo andare direttamente al castello Intanto arrivare aggiungiamo il castello Eh aspetta come sei che li puoi portare a castello però Eh si Guarda intanto io lo faccio dall'altra parte Guarda intanto Guarda intanto C'è la cosa di lava Allora faccio una cosa Io vado a prendere un po' di pietra di me Eh si mi serve anche la Ma è vero che si muove tutto cacato qui E' un po' di pietra di me 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 Che palle Io a me si Ho riguardato poi le clip Finita la 12 ore Io ancora non l'ho fatto Com'è? E' tanto s... Aia no 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 Aiaia Allora amici ricordatemi Se li prendo a pugni questi Mi da lo stesso materiale che può prenderli col piccone Mi spengo da solo o? Eh non lo so Se li meno con i pugni Mi dai uguale Porto un secchio d'acqua Io corro Ok grazie Molto gentile Eh vai inizi a portare almeno che No ok si si spegne Mica 7 cuori mi ha bruciato Eh si Esattamente Ah un cazzo di secchi di merda Dove sono? Fammi fare un po' di esperienza Ah? No Boccette Facciamo dei secchi non abbiamo Qua ci lanciamo I secchi per cosa ti servono? Eh per non bruciare nemmeno Eh per non fare quello che quello fatto io Eh ma nell'acqua non lo puoi usare nel nether No Eh no Mi guardavo di si Guardavo Eh no Eh siamo incurati Oh vinta non avevo stata La bagnava Ti 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 Comando cosa c'è ancora Però volendo puoi dormire Un letto vuoi dormire? Sei scemo Non mi teni nel letto Prego Morese Scusa Oh vabbè Prego prego Non so ragazzi Sono un po' pirla Così come mi attacco Parco Sono andato a fuoco Mi divertivo a fare il cosplay della torcia umana Per un atto Allora No 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 Ho fatto la cazzata Yezar non fare cosa ho fatto io Eccolo la Lo sapevo io Guarda che pirla Ho fatto la stessa cosa Ho sbagliato a mettere il cubo Corri Yezar Perché avevo solo 30 di cobblestone Ne ho sempre tantissima E non mi serve mai Ok Chi è? Sei buono sai Un doppio ponte Eh no qua è un problema Aspetta Oh gas Le va a rompere adesso No Non dovrebbe dar fastidio Ok Che vanno gli rinforzi Ma lì quanti è davanti? 300 blocchi volevo fare 300 blocchi? Eh si Ma sei stronzo? Eh ho capito ma non c'è un cazzo Se no Mi sei stronzo Bastardo Scusa Quindi che è successo lì? Ah a posto a posto Eh lì non si può passare Eh andiamo più avanti possibile no? No Scusa ma non abbiamo più l'occhio Ma che cazzo dice Abbiamo una casa piena di stack di pietra Non è vero non è piena lo vedi Ma si che è piena Che cos'è pieno anche? Il tuo cazzo Di merda No Avevo una mia bottiglia d'acqua intendevo Ma Ma c'è Marco Già Puoi anche fermare la stigiativa Ma quello che ho preso Io ragazzi non Ho iniziato a fare così ho iniziato Ok aspetta 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 Sono una pazzia Non so Non farlo Cosa ce lo faccio? Ho questa passione Metti un attimo qua pietra Nooo Che simile Cosa è? Nooo Aspetta eh Sarò veloce Non avrò problemi Aumi infantili Perfetto Guarda qua Quasi perfetto aspetta Che cazzo morirò Adio Mi piace che dobbiate assisti E' andato dentro Voglio qua Aspetta Ma devo stare veramente attento Ah corri corri Se tipo facciamo un lavoro Prima sto fu inalava Aspetta No aspetta non avevo nulla di importante Allora In approfitto e prendo la linea Eh la linea No Ah anch'io vengo anch'io Aspetta Per prendere la linea guarda Molto bucci dentro qua Però ho riuscito a fare il tunnel sotto la cosa Quindi vabbè Ho preso un sacco di pietra adesso Sì Oltre Ma ad occhio Allora Ho ringrazio il signor Erano finiti i nomi figli e anche All 6 Lo sentite mai E anche Beroghia Io non l'ho sentita Se lo sentite non l'ho sentito Non l'ho sentito guardando No era tutti entro venti minuti fa Però Puro l'ho sentito Oh vabbè Ah tu sei in pre-live? Sì, tu sei in pre-live 3 minuti fai 3 minuti fai Mi ringrazio tutti lo stesso Aspetta un attimo che Mezzo e goddo come si mette Ok si è sopravvissuto tutto Ma avevamo pochissimi Ah no l'abbiamo trasformata in cubo Quosa hai combinato? Aspetta l'arrivo Ma no ho fatto Ma dai ma abbiamo fatto il tunnel Cos'è quel roba? Spurito occhio E' il roba marrone Ma è andato giù nella lava No sono qua sotto Ma qui cosa hai combinato? Perché c'è sotto un porcello con la spada? Ciao Luke Siamo sempre a bruciare Eh sì Ma sono pazzo? Ma ragazzi c'era uno rosa C'era uno rosa Amici mentre scendevo le scale E' vero che c'era qualcuno? Aspetta Lizard Vai via Per favore Ditemi che non sono pazzo Del tutto L'ho visto anche io Avete visto? C'era qualcuno Ho visto anche lei 3 Robrain No c'era uno rosa Ho rientrato un pigman E' rientrato poi nel portale Aprendo la stacionata Una rosa E' un pigman probabilmente Oh guarda che bello sto tune Aspetta che fai 300 blocchi Una rosa col burke Eccolo Che paura Ma che fai? Scemo Ma quanti sono? E' il loro mondo Sono i pigman Ah che è successo? Dove sei? Cosa fai? Cosa fai Luke? Io c'ho un botto di pietro Se vi serve Eh sì Ce ne serve una marea Eh niente C'era una magia E poi ho visto uno Nuto Adesso non lo facciamo Potrebbe fare anche Il doppio E' per non rischiare Però vabbè Anche qui basta non saltare Continuo di qua amici Guarda lì dai piccolo Guarda lì qua sotto Eh sì Sono tutti lì sotto Marco guarda qua Vieni qua Guarda qua sotto Senza cadere magari Ma il pestolino Quelli non danno un drop Tipo la pallina di magma? Sì ma vai te Poi la pallina di magma Di sotto Marco non farlo Marco Marco Eh si è bruciato Che buongiorno Mike Mike Ma la fai Jezza? Non possiamo stare in venti qua Posta posto Sto finendo qua Ah la fai alta Ehi per sicurezza Che lì c'è la fontana di lava No Marco faccio uno io Ma te Bravo Schiocciola la lava Ma come si chiamano i geometri Che lavorano? Marco piace 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 Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Non c'è un muro Marco Io vado lo stesso Ciao Marco Ciao esperienza divertiti Sono primo Barichello Qui c'è i muri Rubens Non devo mollare Ok Non nel senso il culo Non devo mollare il tasto Marco cosa stai facendo? Stavo facendo dall'altra parte io Solo che qui c'è un bug Più veloce Allora aspetta Moro vengo da te C'è una parete invisibile Allora aspetta che vado da Moro io E dall'altro Che fastidio Aspetta dall'altra parte dove? Che fastidio Come? Dalla parte posta di dove c'è Eh allora lo facciamo lì Allora aspetta che ti do una mano a te Che no Mi dobbiamo avanti 300 e tu morisci Decide Perché? Non siamo ancora arrivati Che fastidio Che fastidio Fa niente Faccio così Un pochino Ma Morelli mettiti le barriere di pene Ma che barriere di pene Vieni da me Ma vieni a vedere che bel lavoro che abbiamo fatto noi Ma qui c'è una parete invisibile Marco Arriva arriva Ma non sarebbe meglio proteggerci con le staccionate o qualcosa del genere? Ma Marco Che è successo? C'è una invisible parrots Dove? Vai dritto Perché? Tu non puoi Guarda Guarda Che paura Ma di serie che è successo? Moro c'hai questo Ma che è questo? Non c'era Ma che ti devo dire? Ma non c'è Ti sarai imbriacato Troppa pignacolada Fammi andare avanti Ma scusa No no Perché Ma che paura un'altra volta è successo Fammi prendere il secchio col... Ah non si può Vero cacchio Non puoi Ma sei questo nuovo? No però Ha caccato addosso È piccante Pignacolada 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 Stava cantando molto male Ma per quanto quello di diamante lo sprechi subito così Guarda che non ha indistruttibilità eh È efficiente Ma non lo voglio rompere Ma quello del nether lo fai subito Eh sì Infatti c'è quello... Ma perché c'è efficienza 3 con l'altro È blu Moro Prenditi una striscia Bravo pigmen Che cazzo Marco stai attenzione Sì sì Cappiamo Marco levati da lì che devo rompere Non devi... No vieni... Efficiente vieni dietro che bisogna mettere il... Il pawimentoli Il pawimentoli Sì No pigmen... Eh no pigmen... Il gas Vai Ah mi ha sparato Sì mi ha sparato Morca vacca Mi sono passato io Ma stronzo Ma stronzo Domanda lo scudo potente Tu metti la pietra Ma allora c'è uno stronzo Ma è vero che non brucia le cose Lo sanno? I gatti lo sanno TAT I gatti Ma dobbiamo andare avanti a fare il ponte? Qua è il piscina eh Eh ma certo Eh ma tanto abbiamo un botto di... From playstone Vai ce la facciamo in Italia eh Se finiscono l'inventare Aliviamo Le altre 64 stack Poi hai dovuto tornare... Allora sono stupido Fammi prendere il... Testa di quarzo Ah ti insegno un trucco per andare più veloce Gliese guarda eh Ma mi fa l'esperienza E te hai avuto contro... Contro... Che hai per cucciarti E continui così Ah ok Tu fai così Io faccio le barriere No aspetta Faccio le barriere Giusto Ah tu non puoi cadere così Marco Moro Marco c'è un pube davanti a me Invisibile Ma perché non li vedi? Non lo so Vai riavvia il gioco Vai riavvia il gioco No Mi prendi il braccio Non posso muovere pulsante Non posso premere poro poro Pirippirippiripiripiripiripiripipiripiripiripipiripenceprinifeprinifeprinifeprinifeprinifeprinifeprinifeprinifeprinifecliffprenti Cosa? Okay oh� Ma non è... ceramic Mora riavvia il gioco Moro Ascolta me Ah che p edible Guarda di poti che tenne la pulsante premuto guarda Tint'altro disturbiamo la cobblestone e ci riempiamo di netherrack E andiamo avantiえる Mi è messi molto eh Devo fare ancora questi tre stack... Com'hai fatto il gatto? Incredibile! Cosa? Eh, il gatto ha detto che ha visto Esprit e che ha visto i buchi! È Marco! È Marco oggi! Incredibile! La magia! Oggi è Marco in stream perché... No, i buchi non ne ho lasciato... Ah, vabbè, ma di netherrack... Può essere... No, non ci sono buchi! Allora... Non ho parlato di 150, dovremmo farlo! Ma di netherrack anche chi se ne frega se lascia i buchi! Ma guardate che non li lascio... Che è sta musica forte, vero? Sei come Marco! Non la sentirete mai forte come me, voi in live, o no? Marco fammi fare a me! Ahia, che parola! Io sono la trivella! Io sono davanti senza guardare! Non è over! Io non so dove stiamo capitando! Ah! Ragazzi c'è una... Ah, vabbè ragazzi! Siamo a 2.30, lì possiamo fare il portale secondo me! No, andiamo a 300, andiamo a 300! No, lì, non siamo a 300! Cioè, arriviamo a 300, non arriviamo là! Ok, sì sì! Sì, probabilmente appena arriviamo ora sull'isola sono 300! Ok... Moro, devi stare molto calmo! Ma tu che sei tanto ansimale che mi scanso perchè... Andiamo a prendere cobblestone, tipo! Che rumori hai di capo che fanno quel rumore là! Tremendo! Ma infatti mi attriglielo! Ma non spawna se sono pochi blocchi! Io io pulio Marco, gatto! Se è un blocco chi se ne frega! Amica spawn sotto il blocco! PAP 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 PAP! Poi anche se spawn a qua spawna il... Marco dove sei?! Anche se spawn a qua spawn a il... il pigman zombie che chi se ne frega si spawna! Ma Marco dove sei andato tu! Sì da qua! Marco! No, andiamo proprio avanti! Dove sei? Ho paura? Continua nel corridoio! Siamo a 50 e l'occhi non cherebbe più o meno! palma sti blocchi ma questo è scemo ma questi sono stupidi ma si ammazzano perché non si fanno niente non offenderti, ho finito così la coppola stanno dietro dopo la mia eh anch'io, ho finito tutti gli sti ma se vogliamo il miniere che c'ho il piccolo e potentissimo no beh ma ne abbiamo, avevo metà cassa ah guarda, sprecare torce tante, chi se ne frega ce ne abbiamo un botto no beh, quando c'è la... 109 quando c'è la cosa di lava, si conviene lasciare la luce della lava vabbè, in stampa appunto spawnano solo pigmento sono precisi o vabbè ne ho chiesto di fare un po' di più? dai, un po' di più, sicuramente vabbè ne ho chiesto di fare un po' di più non stare accanto a una... di qui, la... la cosa di lava lava come lava no, ma poi veramente tutto l'arma con davanti il vetro per non rischiare di appiccicarvi anche quello è una bella roba a livello di... lava come lava mi sa che ce ne serve un altro stack ancora, sai ma di cose? ma di... ce ne ho altri due stack io, eh? prendo per sicurezza poi in caso parla anche con le piattaforme a dietro io... e io ho finito la cobblestone no, aspetta ne ho ancora uno stack eh, dove si arrivarci intanto si quanto è grande il portale? 4 giusto, lunghezza no, oggi non c'era l'IBME ragazzi il buco... il buco deve essere da 3 quindi deve... c'è l'ossidiana deve essere... 3 per 2 deve essere 5 per 4 deve essere l'ossidiana double ho fatto l'altra volta e io l'ho riprovato si poi gli angoli non ci sono... non c'è bisogno gli angoli quasi, va bene portate una cesta con la proposta nella letra va bene ma... dovremmo... 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 dovremmo esserci ormai... e domani la light time lo fai qua ma attento che vi piaccia comunque che la chiedete così fai un bordo qua intorno o anche dietro vieni adesso faccio il bordo anche dall'alto giusto per... vi sto seguendo dalla play e anche uno dietro fa gli si riesce no... di due... vabbè basta no si no perchè viene il bordo... ah vabbè parco devi venire a salvarmi arriveremo... vado... vai vai quindi ne tantissi e poi inizia a fare anche le barriere poi i laterali magari... mi sono sbloccato... prendi ancora la pazzia prendi ancora la pazzia eh si questo posto è bellissimo eh non lo so se ci abbiamo dopo? ma vieni a vedere che abbiamo come faccio il problema eh aspetta no è un problema dopo 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 ti chiamo... e non è ancora finito ma c'è un gas! c'è un gas! lì! c'è un gas lì! posso... come si dice a colpire lui? bisogna colpire le palle che ho adesso aspetta quanto... eh il portale quanto è? è 300 ore passa non mi ricordo adesso no il nostro... iniziale 12 tipo no vabbè in genere 10 12 quindi qui siamo a meno 200 ok ti dico subito Morelli adesso arrivo eh ma mi moro per fuori con la trivella ah Morelli il portale è... ah no di meno è a 3 ok vabbè siamo a... 200 blocchi di distanza noi Marco prendi un quarzo c'è eh sì mi ha colpirli con i risparmi è in via i domani ragazzi è in via i domani è in posizione una notaria per attraversare la... eh sì eh dopo probabilmente poi le faremo eh vorrebbe essere più una notaria qua nel nether effettivamente poi ci ha spaccato un po' il gas lì di merda eh no le recitiamo di cobblestone in teoria ah dici e poi bisogna fare bell'alta 3 mi pare per non sbattere la testa infatti non abbiamo abbastanza ma arrivare al livello 30 amici mi do' mettere a pescare non è vero comunque la pietra ne abbiamo un po' tanta eh qua c'è uno due tre quattro cinque sei sette stacche di pietro Marco c'è uno invisibile di nuovo è così tanto arrivo eh ah no credo stia lag... ah no credo c'è l'inventario pieno che non mi raccoglie la roba hai bisogno? sì vai vai a trivellare tu che metto io la cobblestone ah tu metti la cobblestone questo è un pezzo di ster quattro per cinque avete detto no? questo è un problema quattro otto sono quattordici in totale la vera ah sì hai fatto amici l'occhio music che c'è qua eh sono quattro sotto quattro sotto tre di dato ahah adesso mi stampo contro quattro lo zello da buco io lo so petro di drago eh sì perché ho preso l'ossidiano non mi ho preso ho preso 12 scusa appunto così io direi che non ho risposto eh no sei quattro per cinque non sono 12 scusa quattro per quattro non sono quattro quattro per quattro e sedici no no perché quattro sotto quattro sopra 10 e poi due di dato che davanti ah vabbè perché non conti con i centrali qui ne servono 16 sono quattordici sono quattro per cinque eh sì aspetta solo e più una quinta due quattro che sono quattro e quattro sotto poi tre di lato da una parte dall'altra ho preso un cinque così poi a morire l'altezza 6,7,8,9 io faccio quello due, due, tre, quattro due, tre, quattro due, tre, quattro io non mi fido sono due sopra due sopra tre ah senza gli angoli ok veramente e io ho contato degli angoli contavo per il shift non perdiamo sui blocchi di magma non è vero? cosa? ah beh sì perché rimane nel blocco mi sa no? o solo perché ci posso camminare ci posso proprio camminare sopra? è vero? è finita tu? allora proprio non nella lava no nel blocco di lava allora io inizio fare una barriera tu fai l'altra blocco di magma sono quelli non di lava l'ho appena fatto fighissimo io possiamo fare comunque ho fatto due livelli anche più avevo 18 ma quel quarto Marco li fai di 3 miliardi e poi c'è del quarto allora eh pensa a farsi più ah io sono perso e tu ne l'ho fatto che ti due guarda dai qua allora sono stupido tu ne l'hanno fatto eh lo l'ho dovuto fare il tuo il T1 il T1 eh guarda lasciamo di uno sì lasciamo di uno 82 manca poco Marco ok lì c'è del quarto lo voglio andare a prendere è un po' scomodo devo salzare di uno eh aspetta provo no dietro non fanno provo provo no dietro non fanno no dietro non fanno no occhio dietro non fanno aspetta 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 dietro aspetta dietro sono sopra chi è? no no ma è posto è posto Ragnarok grazie mille grazie Ragnarok è posto quanto ero concentrato tra l'altro anche io un botto grazie Ragnarok oh che puttana non cado Maro metti le sponde e Maro chiesa io e Maro con insieme e le sponde adesso vediamo di farle aspetta eh hai dato bisogno del culo aspetta a me piace al rischio non voglio metterle a sponde eh eh dietro di buono infatti adesso ti piace al rischio moro eh si vai via non risica non rospia penso io aspetta aspetta penso io una roba altissima questa è la donna larva allora si fanno come le scale normali quelle del nether assolutamente no penso proprio di si perché non si fanno no no con i mattoni del nether eh infatti immaginavo questo qui è 300 qua è 300 moro a questo punto facciamo aspetta facciamo fino a di la e e buttiamo dovrebbe no ok sicurezza facciamo un altro guarda c'è una torre in cibo ok ostia no alt però così va bene questi cubetti ok ci sono dei dei pigments zombie qui penso a desicare dai versi vabbè tutta la roba c'è tutta la roba possibile ah possiamo fare così va a prendere un po' di cobblersi prenderne un pochino moro quante netherrack hai tu? che cazzo c'ha una quattro eh troppa me la vai per favore tutta quella che hai ah qui non serve ma non non farlo di non farli di le sponde così non vuoi ah giusto per non cadere adesso le fai ma si e tieni marco come diciamo il mondo non è che sia così bello in realtà beh bo 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 forse anche un po' troppo no marco ci ha detto tutta le prendi tutte avanti vi facciamo il mondo salvato piuttosto con i nostri edifici proprio il sim del mondo è ma sporca marco ma marco ti ho preso tutto adesso dammi dammi c'ho un po' di pulizia contatti ti togliere i blocchi di magma sul soffitto del tunnel ti dicono in chat per andare più per sentare e andare più veloci ah puoi si si fare uno strato in più ah puoi si 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 diri 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 ma si tanto si penso io marco esatto stiamo facendo queste esattamente vai 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 fai la privella intanto ci sistemo la zona ecco abbiamo esplorato la nostra zona quanto deve essere grande il pistola e facciamo davvero regare la zona intorno a noi boh lì lascia dove cioè come ho fatto la base io marco tanto che ci deve essere un portale mi suona il corriere vado ad aprire ma vanti il corriere c'hai a casa te te ogni giorno io sto finendo il piccane vabbè vabbè infatti quella di lucana proprio in generale cos'è sto lavoro ma senza un'altra cosa eh o l'ezza l'ezza ha fatto filippo magnini però nella lava si è confesso hai perso il tasto contro eh l'ho scusciato troppo a sinistra il quarto quante esperienze patate direi se usciamo a casa nostra a portare ti immagini? in realtà adesso non ce n'è più pietro e dopo la vado a fare no ma quella giù che abbiamo preso cos'è successo? ah quella della mini ah la sotto si 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 anzi trasportatela prendo tuttola non ho mica pensato in musica incalzante stranger teams e in quella casa che sono del jet quanto testa di quarzo che c'è qui quindi aspetta io posso fare devo andare a farmi un piccone ora quanta ce n'è qui? ho travesse ma c'è anche un sacco di ferro qua no alcuno ne avevo preso un po' però sicuramente di ferro ce n'è ce n'è qua non mi ricordo se ci serve io nel video chiudo molto bene mi è arrivato il tappetino del mouse aaaaaaah sono due segni sopra si ho finito il picchione eccolo ma fate grande su quella tovaglia ma puzzalo una merda ma ma ora è la tovaglia quella che era il tappetino del mouse eh ho sbagliato le misure eh sprit ho capito eh sprit hai dietro Mauro hai dietro del ferro? io ce l'ho io ce l'ho eh arrivo mi fai un paio di piccone un piccone ma dove sei? al tappetone si ah perchè è così qua? ah no lo portare perchè viene cadendo la lava non so mai ma ci sono i pigmenti sul percorso ah si? li buttiamo in acqua e li buttiamo li puoi spingere nella lava? che ci posso spingere infatti? eh merda non ho piccoli eh merda aspetta devi venire a togliere qualche blocco sbagliato fatemi pure per te non ho nulla ah no il ferro ho il ferro se però non ho leggo per farla caraccia ce l'ho io ce l'ho io aspetta vieni non ci sta scorrendo veramente più niente chi è qua? ah no io sto mostrando devi venire tu qua eh mi scusi che cazzo facendo devo fare la crafting table il cornicione vieni qua in fondo se la fai qua in fondo ah no lo butto giù di sotto vai via vai 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 voglio tornare a casa raggio raggio vai però almeno te li fai anche te con sta scusa è morto ma non vuoi non ne lava loro ok ah ma non vuoi non ne lava loro scusa ah giustamente eh ma non lo puoi sapere ho scoperto anch'io poco fa se quello è il tappetino figuriamoci il mouse aspetta guardalo aspetta aspetta ok ma ho finito il ponto c'è anche il quarto ma poverino ma dai ma fai la nave ma guarda qua sotto guarda qua si si no 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 si si è quasi rotto il piccone di metà ma c'è il nino te no mi deve essere il seed del mondo ma che puttana avasta seed del mondo oh oh non so come si fa ma poi che cazzo si fatti col seed del mondo scusate nel senso per due cose un mondo di merda due perchè un po' efficiente di spoilerare le cose come c'è la ducaba giustamente eeeh vai dammi per favore tutto quello che ti serve ah eh avete no le tracciarine immagino eh no franiec grazie franiec tra mesi grazie mille e bentorni grazie franiec vieni qua gli elzatti ti butto tu si anche un po' di legno perchè cazzo mettete diamanti così che sembrano di più guarda io non l'ho capito ma sono belle bellissime dai lascia ma la fanculo devi prenderli devi prenderli una volta quindi tieni premuti poi tranquillamente una volta non è che devi so ascinarli devi puoi tenere premuti però vedete voi alla fine è uguale vabbè eeeh devo andare a buttare un po' di roba in mare io ma perché in mare? buttare una lava no sono uno che inquina vabbè in realtà anche buttare una roba in lava che non deve far bere vediamo in vulcano ovunque ok che adesso vediamo dove compariamo di là ma allora amici io devo farmare l'ossidiana quindi ce l'abbiamo per fare due portali e uno l'abbiamo già fatto ok aspettatemi che voglio venire anche io e va vieni qua si ma tanto ti sto farmando un po' di quarzo che è pieno qui almeno faccio un botto di esperienza e' da qua amore lì devo andare a prendere i cazzi eh? potete avere l'acciarino andando a prendere aspetta aspetta lo porto io tanto sconto troppo tardi mi vorrebbe allora bahanculo ce n'era un altro nel tunnel guardate che è troppo tardi eeeh l'ho preso io andiamo esperit andiamo esperit lo preso io aspetta no è che sono morto preso io esperit l'ho preso un altro per sicurezza perchè non funziona perchè non funziona volete un po' scarico effettoso ovviamente è scarico il mio cosa vuole pigment qua sotto allora corro corro batman batman dentro dell'esperienza qua hai morto pigment ah no non e' vero però c'è qualcosa da andare ok sono a livello 25 ma lo diamo il patto non mi ricordo come si si vedi 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 sto aggiungendo superando subito in curva che bella cura c'è il piede ecco poi tamiami grazie tamiami grazie mille grazie mille grazie vanni arrivo marco sei pronto a sparare noi mondi? ah io perché troviamo il ghiaccio la giungla sarebbe fico poi tu gli animali attraverso la portale no? si eh nel header non so come funzionano gli animali quelli normali ragazzi c'è un problema ma deficiente mi hai fatto mancare il punto scusa via marco addio andiamo ciao marco ma dove cazzo è marco ma che leno eh stavo prendendo il quarzo vabbè scendo così adesso poniamo in casa dai che adesso non sta funzionando caricamento del terreno e me sta andando a caricare a me sta ancora facendo tutto e anche me infatti rientro vorrei di proprio riuscire a entrare dal portale a miseria e me sta caricando il terreno oh ok aspetta ci sono ma sono tornato nel portale sono la nuova ma che merda ma porca che puttana ma ragazzi ma sono mi ha sparmato di un po' più indietro del portale a me sì ma ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo dov'è ma che cazzo dov'è ma che cazzo dov'è Mark vieni qua e non posso vediamo se era un bug era un bug era un bug ok ma cos'è sto lavoro ma con l'Ossidiana lo state facendo ma sto tornando di là no l'ha fatto l'ha già fatto che c'è che c'è che c'è aspetta alzo di bastardi qui sotto ma pure ma c'è un tempio ah c'è un tempio ma vaffanculo il tempio vada ma è una merda e vabbè vediamo magari se arriviamo alle isole dobbiamo portarci le barchette sai io ce l'ho io ce l'ho io la ho messa nella holla e vai a vedere se c'è qualcosa se ha senso ma bisogna scendere qui vai a vedere se ha senso fare una scala facciamo il Marco Polo ce l'hai tu la barca butta la giù ma dove sta andando Esprit bisogna scendere Esprit e vado all'isola cosi direttamente buttala in mare ma magari è una merda quell'isola no ma dai che cazzo c'è un coso che piccolo vento Morelli eh sali no dopo non possiamo più salire col cazzo facciamo la scala sotto ci sono i mostri tremendi eh no cosa attenti sto piccone qua ai mostri tremendi che si vanno sotto almeno ma qualche puttana ma guarda come ha ciulato la barca Esprit ehm Marco ma questo è stupido che puttana è stato mi è arrivato un fantasmo no Esprit a questo punto lo facevo io scusa ti sei portato via anche la mia barca affaticamento 3 ah mi colpiscono Marco eh si c'è un'altra di barca io eh l'ho colpito Esprit l'ho fatto scappare l'ho fatto scappare l'ho fatto scappare aspetta che torna ma abbiamo veramente sfiga comunque eh allora io sono ho messo sono riuscito a mettere il terreno sull'acqua se dalla parte opposta se dalla parte opposta non c'è qualcosa di meglio resettiamo il servo poi non posso piccolare io qua che so praticamente Marco veniva muovi questo non muore mai quante volte lo devo colpire Marco non puoi più salire tu lo sai si si stiamo facendo la scala ben già fatto perché ti capisco ah ok qua la scala pioni ma c'è quelli che vi ci sono in tre che vi succiano Marco niente sto provando a ucciderli ma sono immortali ahia mo io io anche di qua ma anche di qua dove sono io ma mi prende anche qua sotto 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 ma dove è sotto detto sotto sei sopra stai ah sei deficiente li ho ammazzati tutti e due no ce n'è uno di qua io sto sopra non è che sono pesi ma non ci sono le rtx le notizie sappiatele però quando escono no ragazzi non ci sono infatti non abbiamo comunque era una demo prealfissima quella alla gente finito le rtx ho finito le frecce esprit mi spiace ehm tra l'altro voglio prendergli il drop a questi ma l'ossidiana non ne abbiamo più ehm non qua ehm quelle li servono un botto Marco ecco aia c'era per me c'era per me c'era per me c'era per me ragazzi mi toccano ho finito anche il cibo allontanate le aiuto aspetta aia esprit aia esprit mi sciuca ma non state tornando su no no l'ho ucciso ma io ho affaticamento hai un isolato di merda che probabilmente abbiamo già anche visto quella non è possibile 300 bloc Giazzaro com'è scusami eh non posso rompere io ho affaticamento com'è affaticamento ho affaticamento 3 è debuffi quelli ma tu non puoi è un debuff che tirano sti cosi qua tu non puoi mi sa male ma m'ha colpito m'hanno colpito più di voi no ho preso scritto di prismarino eh servono per fare il cuore del mare ma che scala state facendo scusate è una scala improvvisata Giazzaro fammi fare a me fammi fare a me che fastidio eh adesso calva ok no si può salire dai come si leva sto c***o eh sempre il se non serve per togliere debuff il latte è davvero poi è vero fatemi tornare a casa no non torno a casa però dovremmo farlo dicevo l'ossidio aspetta fammi rompere un po' non puoi sapere breve si ho l'affaticamento delle palle ok quando torno ancora un minuto ancora mi dura no rompo un po' di ossidiana che c'è qui come fai a romperla senza l'affaticamento eh ci metto sei anni eppure degli piccone si ma cinque minuti di affaticamento è tantissimo sto provando io anche ci ho fatto Marco no ci ho fatto io eh tranquillo faccio ti creo il terreno sui piedi Marco grazie grazie perché avevo stato così perché è morto un po' di ossidiana perché è morto un po' di ossidiana e sui indieti una marca per favore no buonasera orelli eh sei meglio ha spattato comunque davvero allora io l'isola con i funghi così me la ricordo però non so se è esattamente quella che abbiamo esplodato ma ovviamente vediamo i miei piccone o andiamo più lontani proprio basta anche tu c'era faticamente mi hai fatto interrompere non so più io non so più io io ah no non posso prendere qua trovate queste che accadono di sotto ho andato in legno ma te vi c'è no sono andato in acqua adesso muoio e lo sapevo nooo Morelli che ho fatto un blocco di sediana si ma che cazzo di piattaforma avete fatto qui sotto è una cosa di emergenza eh ma io ho rischiato di morire per la vostra emergenza qui eh ho tantissima ho tantissima devo piccolare gli angoli da piccolare ok vediamo se mi ricordo eh siamo a 2500 blocchi di distanza si contando che casa nostra è più o meno a zero no c'è finita la faticamente molto più o meno vabbè era a 70-200 mi pare era giusto per provare se mi ricordavo come si faceva vai tieni l'Ossidiana e vado io che cazzo ce ne fai ah vuoi esplorare lì? eh vado servirà con 7-8 blocchi no vai amici ho troppa netherrack la butto via ma ce l'abbiamo altro Ossidiana o? è a casa abbiamo 10 blocchi ok si con questi è giusto ma dopo tale l'avete fatto voi? no dai appunto che mi serve io vado a farlo ma che forse ci sono i funcchi io ho fatto due zuppe di culo una zuppe ci sono le mucche? ci sono funghi ci sono i funghi ah si possono fare eeeh fai la ciotola con tre di legno messi a forma di ciotola tipo a io posso finire i blocchi ma ce ne ho io un po' io l'ho buttato in mare un po' di netherrack ah vabbè già usai piatrisco ah no aspetta se vi serve una netherrack ve la porto io aspetta no vabbè no facciamo con la pietra un po' e un po' mi stia fregando questo è un po' di emergenza come sappiamo noi sistemiamo quella delle due è quella del junior eeeh non lo so ho sbagliato netherr cosa è combina vabbè ah eeeh vado così va dove sei tu? ah sei lì ma che lag che scatto si ha fatto lo scatto ma che non puoi passare netherrack ma non sei vabbè tanto perla adesso me li dai quando te li devo dare che è qualcosa qui sembra qualcosa di c'erano sempre un'isola piccolissima pirula mi stanno mettendo un blocco scherziato ma a me sembra una roba che abbiamo già visto comunque bici beh i funghi no non siamo a 2.000 e passa non siamo mai trovati eh ma i funghi li abbiamo l'isola con i funghi eccetera l'abbiamo già visitata eh non è possibile che siano ricapitati dai porca vacca fammi andare sopra qua ma vai andiamo un metro più avanti c'è il deserto in che cassa è l'ossidiana? eh qui è materiali preziosi si credo sia materiali preziosi si ma guarda che non si vede un cacchio non si vede veramente un cacchio siamo arrivati sull'isola sto rompendo anche l'armatura no Marco andiamo a esplorare quest'isola di merdo io vado a fare vado a fare l'altro non è da solo Marco vado a fare l'altro portale è un'isola questa avete solo 2 biomi in questo mondo ma guarda molto probabile quindi dobbia ricominciare è fatta beh c'è il modo prendi solo la casa Morelli che è un nuovo mondo e le piazze da cacchio nel nuovo mondo si può fare? non credo non credo non credo non credo nel riem è ah forse sono ci gruppi di tigre ho trovato il villaggio dove? io ho un cacchio le porte soprattutto importantissime le porte beh ma se ti prendi la cosa del il casco di tartaruga o la pozione dell'ossigeno così io devo fare un'altra strada da parte opposta perchè la parte opposta è un villaggio mi sembra era più vicino mi pare più vicino non l'abbiamo visto dal portale invece che non era così vicino beh io l'avevo visto come? sono andato spedito adesso infatti buonasera vediamo cosa nascondono questi mi manco dal portale una mela del penne una patata un fiore lo lascio lì si la vedi? io ho smittra la serie di pdpi di minecraft anche a morelli mi pare noo è sprit noo non ti basta l'ossigeno hai sbagliato a metterla hai sbagliato a metterla hai sbagliato a metterla è venito a metterla a prendere un cubo ma crea dei calpi con il diamante non ne va perchè dove sei datte comunque? eh aspetta eh ma tanto c'è un gatto ma non l'ho colpito che sfighe dai venitemi a dare una mano per favore esatto mi fa impazzire Guglielmo allora ne ho ne ho mai mangiato dai c'è anche questo pigman che mi sta dando dello stronzo un emera vedi che tipo ma bastardo lo stai dicendo qui non c'è niente c'è solo è solo floresta posso prenderla tutta l'ossigeno l'ho preso a sinistra ma ma come era la parte opposta da portale dove siamo andati noi scusa? come no? è leggermente più a sinistra la parte opposta è da dove siamo andati noi eh noo come no? no Marco è leggermente più a sinistra io mi ricordo che è da la parte opposta rispetto al portale è leggermente più a sinistra no credo proprio di aver ragione io sto giro ma guarda guarda i portali ma è notte la riga va a sinistra rispetto a noi vuol dire che siamo di dato non dietro la parte opposta è dietro dalla parte opposta è dal coso che hai fatto tu dalla rigone che hai fatto tu guarda la rigona la vediamo ma hai capito comunque in orizzontale quindi eh eh ma hai capito comunque la parte opposta è nel senso voi siete andati da quella parte o dall'altra parte che è come fa la ragione del market da qua vedo il portale che la riga va a sinistra quella fa la ragione del market non è dietro ma si ma è la stessa cosa chi se ne frega l'hai capito hai capito quindi vuol dire che non ho capito mai tutto il giro dalle isole allora perchè sei stupido no perchè sono intelligente è un posto ma hai spirito non ti trovavo ma riesci ad andare a dormire io posso dormire con un creeper no dietro dietro vabbè aspetta vado tanto sono nella casa adesso mi metto a dormire tra l'altro il bioma del montagna che palle ma non c'è un caffio sono lontanissimo tra l'altro non sa che morirò ma ci sono delle case in cima della montagna comunque questo è già più tutto quanto no tutto no ho preso alcune casse ma non tutte ma hanno un sacco di grano qua ma infatti era era dalla parte opposta nel senso che non c'era nient'altro tranne questo quindi no è un creeper spinaccio di merkel baccalo ma come stai a dire di sopra scusami io sluggo perchè vuoi pieno di mob eh da questo punto eh aspetta tanto adesso vado a dormire eh devo slugare pure io ecco quando ci sono ci sono io già da parte opposta invece si sluggo ancora sta parlando che lag però vado a dormire in casa degli ezzer vado a dormire in casa di questo villager sto dormendo ah c'è uno in letto lo sposto lo sposto perchè non posso rompere le cose carascazile le basse di mer il concetto ma porca miseria il concetto di fistalloni grazie con ci quieto parco non posso dormire esci esci vattene via non posso rompere i letti con sui villager perchè ho trovato il debuff è il giorno e sta cos'è il debuff vado ah le ha busto il culo buona va andiamo iniziare a montagna va debuff io continuate 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 pure bravi bravo ah vado adesso bravi 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 vado sono le civaglia ma ho capito uno scheletro un po' di farm qui di ossa sempre comodo un cavallo eh si i pannetti i pannetti uguale al nostro campo a casa ah ok ah degli sveragli un altro spinaccio un po' di pane una patata ok un altro spinaccio un caccio perfetto cos'è lo spinaccio marco spinaci ah ma che cazzo devi andare a vedere la casetta che c'è sulla montagna come salvo come salvo lo posso picconare chi è? chi è? Maurizio grazie mille è bello beh Lucado noi avevamo un real con molti più giocatori ok ok eravamo sul serro mi ricordo real 16 forse una barca era di là un real è da 10 mi pare o da 10 o da 12 non mi ricordo beh quando ce l'aveva Karima all'epoca entravano in 30 quello però ma non era un real no non era un real serve avere proprio quello lì c'era anche il depressone se vuoi servere quello costoso era quello allora la mia banca ma non mi no questa isola qui è una merda è solo foresta solo foresta allora io ho fatto l'altro portale vai Morelli ma infatti se fossero esplosi tipo nelle zone in cui sono io l'avrei riparato tutto tanto qua non ci torneremo mai infatti che se ne fai che stare qua a noi Kripper devi levarne i coglioni fa caccare di la porto per misere eh si mi sta caricando il terreno a me eh si ho tornato dietro la montagna sono tornato io amici terra si ma se è sempre foresta è inutile no è pianura eh e montagne però ho una barchetta distanza sei c'è il no ci sono i ghiacciai ah ok di qua è arrivato a estri oh arrivo ci sono i ghiacciai amici muoio venite qua arrivo amici terra 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 affangulo terra merda terra di ghiaccio voglio ritrovare la mia barchetta per andare di là mi sa che era quella la manco era quella per davvero mi sa questa fa amare qua perfetto qua c'è una barca ah non è tua pensavo fosse tua questa si proprio prendere basta guarda che te ne frega ma se lo faccio con il legno se hai venuto sulla barca si mi sa che io sono arrivato lì da destra Marco andiamo che c'è il ghiaccio da Morelli tiri tiri sono arrivato da lì a destra eccola lì la mia barca come lo sipponare? dammi lì mangio mangio occhio bene che sono aggressivi quelli da eh oh ma si 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 mazzano questo marco mhm oddio posso uscire ok magari c'è solo questo iceberg il vostro ponte fa schifo dobbiamo rifarlo tutto aspetta ho fatto la svelta vai alla partenza ma che inquietanza avevi la testa girata al contrario sai che forse c'è solo questo ghiacciaio? poi ce ne saranno altri vicino immagino spero brelli ce ne devo sopolare? si uno in un ghiacciaio è veramente una cosa solitaria questa cosa è realistico Morelli ma banca lasciamo lì tanto ci servirà comunque per un po' e se torniamo ai sull'orario metti che eh aspetta c'è anche il vulcano mi sa vulcano? vulcano? non l'ho mai visto non so perchè aspetta c'è un tempio qui sotto e c'è la pietra grazie Rebelski grazie Rebels grazie Rebels con Helmos ci fate leggermente un excursus delle vostre serie e personali preferiti drago ah no eh eh magari una live a fort eh era cobblestone mi sembrava ma c'è una live tre minuti ce l'aveva fatta eh ma è che posso dire leggermente più storto rispetto al portale iniziale ah ghiaccio guarda vabbè non importa ma ci sei arrivato sì noto adesso devi farci tutto lo rifaccio beh ma è grande sto via ma è grande sto via ma che leggera ma che leggera fan di stelle Raffaele adesso vai riscrivi la mozza e dici ooooooooh ma non funziona è per te voglio vedere il ghiaccio ma siamo in quattro ma non può fare così male in Rian porca vera ah davanti ho io usciuti a miseria l'ho visto eh piripiri piripiri ma avete fatto un ponte pericolosissimo c'è lava c'è dei cubi di magma ma a rischio a rischio eh eh noi siamo uomini veri ah scusa aspetta devo buttare un ponte nella lava io Mark un attimino eh è veramente solitario sto usso poverito probabilmente gli acciai si estendono andando in quella direzione la è cascata c'è un blocco lì così ma sono in live lo stanno però in live ma però voglio ho un culetto di ossidiana è diventato non so perché hai un culetto di ossidiana esatto però il ghiacciaio è vero su sud ma che belli Marco arrivo aspetta che sto farmando un po' di quarta non rischi non vivi e bretelle da nonno voglio andare a vedere più verso nord io ah non si possono si possono prendere poi le cipollari Morelli no eh ragazzi è un Realms è un server ufficiale di Minecraft beh uh che bello no da questa parte Moro non c'è assolutamente nulla io Marco dove sei? beh bisogna andare molto in lato visto poi andrei verso cioè verso nord continuerei che belli sono i ghiacciai io voglio farmi la casa qui eh sì perché comunque c'è un ghiacciaio il fasullo ma c'è la fortezza della solitudine eh vado leggermente più avanti a vedere se c'è qualcosa è lì perché vai verso sud torni indietro ah vai verso sud di qua in teoria tu se dal portale continui verso sud torni a casa ma questo qui è Franco ciao Franco come stavi? ciao Franco posso cavalcarti in maniera no non voglio no non voglio faccio niente inghezzi eh? a me faccio la fottata da solitudine ah ok quindi di lapis ha rotto tutto il oh man Marco vieni in c'è la casa qua quindi bisogna andare verso nord per i ghiacci vediamo cos'è la sua amore boh aspetta là ci sono altri ghiacciai aspetta no in te torce mi raccomando credo mi sia arrivato una un messaggio da parte Marco io non posso andare avanti perché c'è un buio invisibile no qui ci sono degli iceberg ah mi ha ricordato mi ha ricordato che deve uscire un video bello domani barca iceberg è una barca è messia a portare fino a casa sai che fatica ormai muore col caldo ghiacciò c'è una sospice io voglio farmi la casa qua per davvero ma porca puttana sono scivolato sì ci sono altri ghiacciai di qua guarda guarda parte di zoo ehm proseguite a cioè dai ghiacciai guardando il portale a sinistra mi aspetto qua dal portale a sinistra no dai ghiacciai guardi verso il portale a sinistra quindi vai verso ovest ah di là ok aia che male aia che male ecco andiamo ma che succede ma che succede? che cazzo pallini? li avete visto eh? eh non so me le levo dall'inventare ma che s... caspita sta succedendo ma non so l'alchmark vieni giù vieni non c'è colpa mia però che sto rushando b sono veramente tanto faticoso muovermi in questo zono cos'è in questo zono anche buttati di sotto ok dovete andare ancora il comando allora il comando è ancora attivo si no però teniamo per la 12 ore basta li abbiamo fatto settimanalmente? no che settimanalmente? lo facciamo magari per le cazzate più grosse ora sarebbe da resettare salve è taxi qua sono 200 smeraldi lo vogliamo resettare amici allora decidiamo adesso con la chat gli alpaca tutti bianchi diciamo con la chat allora lo vogliamo a me piacerebbe tenerlo anche durante le altre cose cioè non da cancellare completamente però magari lo resettiamo resettiamo il counter tutta lo teniamo per la vita di tutti i giorni ma è un tempione eh mettila anche dai mamma mia eh questa mela era veramente lunga sono scesa dalla montagna era gigantesca ho posato un po' di tesoro eh ho posato un po' di tesoro eh ho posato un po' di tesoro ho posato un po' di tesoro aspetta niente di qua c'è di nuovo l'oceano ma il deserto quelle caccatelline voglio il deserto era così bello quelle piramidi è veramente un server di merda eh io voglio un rimborso mojang basta quel lag che c'è porca vacca ricominciamo fatta veramente non facciamo il palazzo facciamo una catapecchia di merda non facciamo quel palazzo facciamo altre cose qui c'è roba galleggiante se volete ricominciamo con l'obiettivo sempre di fare l'ender dragon ma con un mondo un po' meglio magari qui c'è ah no ma è finito già qua il ghiaccio che merda è veramente pochino qui c'è un'isola volante con dei maiali ma cos'è ma che biome di merda si è trovato? è l'enderm è l'aerobrani lì ha fatto tutto tutto aspetta ho visto c'è del fumo laggiù la terra firma cosa vuol dire che c'è del fumo? eh c'è la immagino c'è scope dog bravo deficiente Ah, 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 ah È notte Eeeh, chi dorme? Dormo io Dovi tu? Sì Allora me ne vado Sto dormendo No, sono creduto in acqua, aspetta Ebretelle da nonno È giorno Eccoci Ebretelle Babbè Ok Non è vero, c'è C'è un falò in mezzo A nulla Ah, sì No, c'è un villaggio Ci sono dei falò Che bello Io ti sto seguendo Ma io stai facendo Ci sono delle case Ci sono delle case tipo Altotesine E ma questo dove sei andato? Cioè, dal portale dove? È un botto in là, zio Eh Adesso le coordinate Sono andato verso nord Sono a 21 Meno 3500 Verso nord, d'è qua 21 Meno 3500 Hai fatto mille blocchi? Sì Ma guarda che belli villager qui Milano di tal e l'altra Cosa c'è lì sotto? Una cosa di Milano Devi andare a nord Ah, a nord è di qua Sotto a terra devi andare Quanto è che era la prima X? Mulelli La X era 20 No, 20 20, quindi qua Cazzo, moreno Semplicemente perché arrivi in un punto Che c'era qua Ma c'è andato con la barca, Amoro A piedi No, qui è Ah, è infatti Ma c'è un pirata Eh, qui siamo bloccati Eh, c'è la benda sull'occhio Questo Aspetta Ma io guarda Porcaccia C'ho nell'inventario Poi mettere un blocco Hai detto le coordinate? Così Mi do Eh, 3500 Sì, ma non c'è niente Comunque Un villaggio delle palle Scusami Vabbè, senti Domani Ricominciamo da capo Sono le lapidi ci sono Yes Ci sono le lapidi Così, si chi è così Sì, domani possiamo ricominciare Domani ricominciamo, via Ciao Almeno dura anche di più la serie Sì Vai, patta Domani ricominciamo Basta Te lo prendiamo Poi pongi, patongi Grazie Pongi, patongi Io voglio arrivare Io c'ho voglia io C'ho voglia io Faccio io Faccio tutto io Tutto Citiamo No, non citiamo Voglio giocare In live Voglio farlo in live Voglio rifare Faccio tutto io Ognuno fa una casetta piccolissima però Eh, magari salviamo la mappa E la mettiamo a scaricare Se siete affezionati La salviamo Dai, che non ci siamo mai No, no, no Perché c'è un mondo peggio di questo Ma no, non per quello C'è io anche Per ricordo Se ce la voglio tenere Sì, anche giusto Aspetta 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 Ma laga Ma c'è ancora Ma c'è ancora della neve Siamo lì Anche andassimo Se torno a casa io Anche andassimo A 3000 blocchi Trova una cosa Ma è troppo Io lo volevo fare Felix Cercare un seed Con un'isoletta No, non era Felix Era un amico Che la scherzo È un'isoletta isolata Che non c'è nient'altro E sopra Vivere Partendo da quella Sarebbe bellissimo C'era anche Un adventure map Che si chiamava così Che non era adventure map C'era Un survival Solo che il mondo Era quello lì Lo skyblock No, come si chiamava? Skyblock no Skyblock sono le battaglie No, allora non era quello Si chiamava Allora qui c'è Il mare congelato Dove sono io Eh, vabbè Ma sei a Chissà dove No, Sian era Anche quello Era bellino Eh no Il deserto congelato A questo punto Allora ci mettevamo Noi con la creative Per cercare i biomi Nel senso Che chiamavamo la chat Ma non voglio usarla mai La creative Niente No, io ho detto No, anche la storia Era skyblock Per davvero Era skyblock Ma non le battaglie Le skyblock Magari Le isole Magari le hanno chiamate Così anche quelle Ma no Che ha senso Comunque Hanno senso Entrambe le cose Beh, ma su Minecraft Di obiettivi C'è Trovo Non c'è Di underdrag Non è che ci sia Molto No, ma con Magari Da quando Da quando Ho messo Da quando Ho fatto la patch Delle Delle robe Sott'acqua Porca puttana Tutti i seed Hanno 70% Di acqua Vaffangulo Mi fa Scagazzare L'acqua Ma dove Caspita Stiamo andando Ma non lo so Tanto Risettiamo Un po' Ho fatto una foto Vedendo c'era qualcosa Ma non c'è veramente niente Io sono a 4000 E La possibilità Di fare un mondo Che non compresenti Solo isole volanti Minchia Da farlo col bio Desertico Esce una cosa fighissima Inoltre ingegnare Per sopravvivere È bellissima A me piace Quello robe Lì Piacere un botto Sì Ma è che fanno cagare Come la vita vera Però Un gioco fa cagare Oddio Non così tanto però Sono tutte isole solo Sì fa veramente cagare E no ma è perché È che no qui non è isola Qui dove siamo io e Mark È un continente Però è tutto uguale Tutta foresta E montagne Inutili È deserti Dove cacchio sono Che stiamo andando a nord Però Non mi serve il carbone Vuolo solo l'esperienza Io t'ho perso Il diaz Eh fa niente Sono sempre dritto Sono andato Abbandoniamo il condominio Che poi ci sta Perché al fine Quello che abbiamo fatto con Corvo Corvo non può più partecipare Ci sta che Ne rinanziamo un altro Magari in quattro E via Eh sì Anche perché non voglio Cioè a me piace un botto Giocare a Minecraft Alla mattina Mi sta davvero piacendo un sacco Sì c'è la posizione Di quelli della gang Eccetera Robo Mi sta piacendo un sacco Anche a volte Perché vedo E' inutile che vado a maletta E' fare i bioni piccoli Giorno Ti spostare i bioni più stretti Eh ma non ci sono Dopo ci guardo Meglio Ma non ci sono Impostazioni Ah perché Poi si Inopiare Ci sono più Impostazioni Che di Mi sono Adesso no Dopo ci guardo Comunque Porca miseria Quando a fare una cosa Risponta Nel cavallo Però questo mondo E qua Ormai Ovviamente Non Cioè comunque posso Ho tre slot L'altro mondo Lo posso fare Non lo devo Resentare per forza Non cancellarlo Sto comunque Tieni da una parte Allora in realtà Voglio cancellare Tremendo Sto andando Sto salvo Tiro fuori Sono a 4400 E non c'è ancora C'è ci sono ancora Montagne e alberi Ok ma è per cancellare Tu mi sembra brutto Insomma Vedi come uno lo vuole L'inchato Volevano Ma deficiente Ma non è che glielo vado a dare A quell'inchato Comunque Intanto se gli carichi la mappa Se lo voglio Ma la mappa La carichi tu Come cazzo lo faccio A caricargli la mappa Ma non è che è un video Devi caricargli la mappa Pesano pesano un botto Quanto pesano Io mi ricordo che ho preso A solo un botto Ma io mi ricordo Assolutamente no Anche perché spesso Lo facevamo anche con Eh cazzo Non ce la facevamo più a farlo L'ultima volta Perché non ce la scaricarla Mi ricordo che non dai giga Ma quanto pesavano Anche quel lavoro lì Resimiamo quello Resimiamo Cos'è quella cosa Vecchio server Quello vecchio vecchio Poi neanche Questo è il primissimo coppio Ma è lava Ok Perché quello vecchio di questo anno Non siamo riusciti a scaricarlo Ma no Niente proprio Sì Sì Abbiamo fatto una casa Allora scavalco l'ultima montagna Vogliamo l'hardua sentenza Amici domani mattina Poi comunque sia Lo rifacciamo Ma non si può fare Da boh Non si può fare È un real Ma non è un server E mamma mia È ancora più tremendo Ma infatti Volpe facciamo così Mi avevamo già detto Infatti Che facciamo tutto quanto Perché E stavolta c'è una cosa Esploriamo prima Se va bene Allora ci costruiamo La casa Capito Poi è una casa piccolissima Non voglio neanche una live Su la casa Non voglio Voglio metà la live massima No io la casa piccolissima Ma perché Fai una casa una bella Perché Marco Se no ci siamo 5 live E fare una casa di nuovo No non si fa nulla Con i live Ma non No Ci siamo 5 live A fare la casa Dicevo Ah Vabbè Tanto è quello È quello di fare in Minecraft Se fai le robe piccole Tutto veloce Caspita Case Marco Sono le parti belle Della casa Allora io provo a cambiare slot Ma sono ci stato fuori Il nuovo villaggio Allora si possono caricare i mondi Modelli Cos'è modelli Farming valley Kingdom survival Sì sì Ok i modelli sono i Robbe già costruite Praticamente Tipo quello che diceva anche Marco Tipo l'isola Dove devi sopravvivere Robbe così Non sono avventure Sono proprio così Poi c'è carica un mondo Dove puoi caricare Un mondo che c'è nel single player Ok E poi c'è il nuovo mondo Novo mondo Tipo di mondo Ok Allora Tipo di mondo si può selezionare Normale Però come il nostro Piatto Biomi vasti E amplificato tutto In mani Amplificato che cazzo vuol dire Che i biomi sono più grandi Quindi non c'è Ma quando c'hanno le case a due piani Villager E biomi vasti? E' vasti Sono più larghi Più grossi E che cazzo cambia da amplificato Che amplificato può non essere La grandezza delle cose O più anche forse Non lo so Però fa l'amplificato Non lo sai Non mi dire le cazzate No Dove essere così A vero essere Ma stai che sono più grandi Di 16 volte Quindi No All'ambicco Allora Di primo Ti ho dato un amplificato Deve cosa viene fuori Fai un test Perché se ne frega Allora Mondo Se ne Strutture si cosa vuol dire Ah ok Sono stato espulso Strutture si cosa sono Le cose Vabbè amici Quindi il live Non vedono niente Ah ma infatti Non facciamolo adesso Il live non vedono niente Il capo in altezza Molto più grande Amici comunque Domani mattina Vedrete tutta la situazione Che abbiamo fatto No No facciamolo Amplificato E nulla Noi vi ringraziamo Per essere sempre Così numerosi Aspetta un attimo Ma lo facciamo domani Non facciamo la test Ma no Lo facciamo fuori live Quello possiamo Vedere fuori live Ma quindi Cioè Dobbiamo rifarlo Cioè Dobbiamo fare piatto No Piatto credo Ti venga senza niente Proprio Moro E quindi Dobbiamo rifarlo Normale Dobbiamo rifarlo Ma sì Il fatto è che ti deve andare bene Che tenesce uno decente Non è che puoi Adesso infatti Non è che puoi Adesso infatti Non ve lo consiglio amplificato Amplificato perché Se è come quello in single play Il piatto è terribile Sì Ma dicevo che Amplificato vuol dire che Altezza della data Capito capito In fondo è Nel'assurdo Aumenta il capo dei blocchi Vabbè E poi ne parliamo Nel domani Di calcio Amici Facciamo domani Amici grazie a tutti A stasera Cosa facciamo Magari trial Magari facciamo trial Ma l'abbiamo Durante la stessa Ma l'ha fatto anche un errore Comunque Ottimo Quindi vici Michi Ciao belli Ciao Ciao